D'Arza D'Arza Più avventure Sono stata salvata da un selvaggio volante con un perizoma Più divertimento E più sorprese che mai Ma le avventure di Tarzan continuano anche dopo il film con tanti contenuti speciali mai visti prima Tra i quali scene eliminate, giochi e tante altre cose Lo spazio è arrivato Inoltre un'anteprima esclusiva di Tarzan 2 prossimamente Non ti picchiare, non ti picchiare E' attimo il quale che sei tornato A casa mia La leggenda entra in casa Per la prima volta Tarzan In DisneyTBT edizione speciale in due dischi In DisneyTBT In DisneyTBT In DisneyTBT In DisneyTBT